E Milan-Atalanta è la partita che questo stadio ha deciso di trasformare nella partita dell'amore, del sostegno, del supporto, del brivido, del sentimento allo stato puro. Pasalic, Pasalic ancora per Attebur, Attebur là da dentro, Muriel, Muriel, il tiro di Muriel, la grandissima parata di Mike Mignon. Grande giocata di Muriel, grande risposta di Mike Mignon. Leao, la ridà a Teo, bello Leao, bello Leao per Teo. Esce Kuhnmeiner su Teo Hernandez, grande Teo, grande Teo, mare di rigore, Teo, sale Makers, la lascia, Leao, il tiro, fuori. Fuori, ho sperato nell'angolo, invece palla fuori. Poi palla in mezzo al campo per Messias, Messias la dà lunga su Leao, Leao, Leao contro Kuhnmeiner, Leao, Leao, Leao. Ha segnato Leao, ha segnato Leao, urla San Siro, vibra San Siro, Leao, ancora Rafa, Leao. Sentite come urla San Siro, San Siro, Leao, all'undicesimo del secondo tempo. Malinowski, palla dentro, Zappata, Teo Hernandez, il tiro alto, il tiro alto, rimessa dal fondo. I ragazzi sono venuti dietro Leao, leao ad aiutare, il colpo di testa fuori, la presa piena Zappata, grande occasione loro. Milan che deve scappare indietro, attenzione, Bogà, 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 grande lavoro di Krunic, splendido Rade-Rade. Tanta roba Rade, ecco Teo Hernandez che viene in mezzo al campo, c'è libero Messias, c'è libero Messias, c'è libero Messias, Teo, Teo vada solo, Teo vada solo, Teo vada solo, Teo. Goal, ancora Teo, è una meraviglia, il gol di Teo Hernandez, da un'ora all'altra, è una meraviglia. Senti il mio cuore, è il cuore del Milan, noi battiamo forte, Teo Hernandez, Teo Hernandez, Teo Hernandez, i milanisti belli come il sole, i milanisti belli come il sole. Florenzi, palla dentro, Rebic, Rebic di tacco, Rebic, 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 niente, il miracolo di Musso, vicinissimo al 3-0 il Milan. Calulu, 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 se ne va Zappata, se ne va Zappata, se ne è andato Zappata ragazzi ho paura, è solo Zappata, è solo, è solo, libera Bogao, paura. Il tiro deviato, il colpo di testa mancato, Zappacosta, attenzione, la grande parata dei nostri, la palla va in angolo, sul tiro di Zappata, in due a parare, Tomori e Mignon, in due. Dai, Orsato, fai il fischio più bello del mondo, Orsatone mio. È finita! 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.